Signore e signori, l'evento a porte chiuse per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts ci ha mostrato almeno in piccola parte cosa ci aspetta nel futuro della saga. E senza farvi perdere nemmeno un secondo del vostro prezioso tempo, vi mostro immediatamente il momento in cui ho tirato un sospiro di sollievo, l'unica scena che mi ha dato vera fiducia per il domani. Pippo e Paperino ci sono! Andiamo con ordine. Ho voglia di entusiasmarmi insieme a tutti gli appassionati e il brivido di curiosità e aspettativa che ogni capitolo porta con sé, fomentando la fiamma della nostalgia mai spenta, ovviamente si fa sentire. Però ci sono significativi punti che mi hanno lasciato qualche amarezza. E il modo migliore di mitigarli o confermarli è parlarne con voi. Cominciamo con Dark Road. Il finale della storia del giovane Xehanort arriverà ad agosto, quindi dopo quasi un anno di ritardo. Come promesso il titolo mobile non sarà ulteriormente giocabile, né direttamente online. Ma riceverà questo corposo e gratuito aggiornamento di scene per chiudere il sipario dopo aver raccontato viaggio ed evoluzione degli allievi del Keyblade di Odin. Oltre a testimoniare l'originaria frattura nell'intensa amicizia tra Xehanort ed Eracus, il finale di Dark Road promette di fare chiarezza su qualcosa di altrettanto importante, se non più rilevante ancora. Il collegamento tra il cuore del giocatore di Union Cross e quello di Xehanort, che alla conclusione del ciclo narrativo di Union Cross stesso sembravano fondersi in qualche maniera, metaforicamente o concretamente che fosse. Il finale di Dark Road poteva essere un punto di fermo anche per i gaccia a tema Kingdom Hearts, ma diversamente da come molti speravano, quando due porte si chiudono e un insulto agli amanti di un altro titolo viene usannato, si apre non solo un portone, ma un'intera città. La città di Skalad Kaelum, esplorabile e giocabile nel nuovo titolo mobile di Kingdom Hearts, Missing Link, che si impegna a colmare il divario tra gli eventi di Union Cross e quelli di Dark Road, quindi la nascita, l'evoluzione e lo sviluppo della capitale dei portatori del Keyblade fondata da Ephemer, dove abbiamo visto comparire Brain dopo un sospetto viaggio nel tempo. Il titolo vuole essere un action giocabile con schermo verticale quanto orizzontale, con una modalità per la storia ed una esplorativa, nonché la possibilità di aver in partita fino a 6 giocatori. La trama vuole coprire i misteri e i dubbi rimasti tra la fine di Europoli e l'era dei Maestri del Keyblade di Skalad Kaelum, appunto, e una closed beta è prevista per l'autunno. Il concetto di recuperare l'intero spezzone mancante tra Union Cross e Dark Road chiaramente mi fa piacere. E aver intravisto Brain, una Skalad Kaelum ulteriormente esplorabile e giocabile, nonché il nuovo possibile giocatore e membro di una qualche organizzazione segreta, sono tutti elementi meritevoli di entusiasmo. Il problema è la resa. Il contorno. L'ennesimo Gacha Game che, almeno a quanto si è potuto vedere al momento, non solo non ha voluto imparare dai migliori, ma si è tenuto stretto le stesse meccaniche che rendevano esacerbanti i capitoli precedenti. So che a tratti divento ripetitivo nel mio accanimento contro questa categoria, ma voglio approfondire perché il nuovo titolo mostrato ha colpito un nervo senz'altro scoperto. Dopo aver chiuso due giochi mobile a tutti i giocatori che hanno visto le centinaia di ore o euro spesi in medaglie o il cielo non voglia in carte, cancellati senza quasi uno straccio di spiegazione, con che coraggio torniamo sull'argomento? Dopo aver fatto un Gacha basato sulle carte, poi sulle medaglie, e poi di nuovo sulle carte, devo vedere spuntare le action figure? Al di là che le trovo sgraziate come resa estetica, nel vedere questo giocattolo munito di piedistallo che rotea in modo ridicolo intorno all'eroe, ma quello è un giudizio soggettivo e personale, non badiamoci. Però speravo che Genshin Impact avesse insegnato alle case sviluppatrici che non potevano più rifugiarsi tanto facilmente dietro alla bassa risoluzione nel fare un Gacha, non con i guadagni che le transazioni sempre meno micro portano. Mettere delle statuine da collezione giustifica la mancanza di animazioni esterne a quelle delle mosse dell'eroe, ed è un ottimo modo di non dover lavorare quasi per nulla sulle ricompense delle pescate e dei banner a venire, già che a questo si aggiunge una qualità 3D così bassa da farci tornare indietro di almeno tre generazioni. Altro problema che chiunque ha notato proprio in Genshin Impact è che gli action RPG in 3D mal si prestano al gioco su mobile. Quindi i casi sono due, o il gameplay sarà basilare se non vicino all'inesistenza, o sarà più convincente e magari fedele ai primi capitoli della saga, ma senza supporto controller infinitamente scomodo. Tutto quello che ho detto in passato contro i problemi che un gacha può causare, anche e soprattutto alla narrativa diluita, ovviamente si applica anche qui, e molto altro ci sarebbe da dire è più che altro ripetere allo sfinimento. Vorrei concludere invece questa parentesi estendendo il mio unico vero elogio a quanto mostrato di questo gioco. La possibilità di creare il proprio Keyblade Wilder, customizzato con tanto di proporzioni e dettagli 3D. Lasciamoci ora alle spalle i gacha game per parlare dell'annuncio più atteso e importante, Kingdom Hearts 4, il primo titolo numerato del nuovo arco narrativo, quello del maestro perduto, il Lost Master Arc. Le parole con cui si apre il trailer accompagnano due scenari ben differenti, ma molto esplicativi. Il primo è una città moderna che realizzeremo presto essere Quadratum. Il secondo è una foresta che per qualche somiglianza e un frammento d'immagine particolare viene identificata come quella di Endor e lascia speculare sull'utilizzo di un mondo di Star Wars nel contesto di Kingdom Hearts grazie alla collaborazione con Disney. Scopriamo subito che Sora è in un appartamento della città di Quadratum, appunto, che oltre ad essere modellata ad immagine di Tokyo come già avevamo potuto vedere nei finali di Kingdom Hearts 3 e Remind, ancora una volta offre uno scorcio riconoscibile, che su Twitter hanno supposto essere la zona residenziale di Aoyama, uno dei quartieri più ricchi. Più importante ancora è lì con Strelizia, che l'ha trovato all'arrivo in quel mondo sette giorni prima, sette giorni passati fondamentalmente a dormire e plausibilmente a riprendersi dalla transazione a Quadratum. La risposta di dove fosse finito Sora si unisce quindi a quella di che fine avesse fatto Strelizia. Una volta che si scompare da un regno di Kingdom Hearts, quantomeno se si è un portatore del Keyblade, tra le possibili mete del cuore, dell'anima o della stella incorporea che siamo, c'è il fatidico regno dell'irrealtà. Una sorta di al di là per loro, come lo definisce Strelizia, che però per i suoi abitanti non è che un mondo normalissimo, come ben sappiamo molto simile al nostro. Il gigantesco incobo oscuro che compare in città sembra una novità per i cittadini di Quadratum, e il fatto che compaia proprio quando Sora si risveglia la dice lunga. Dico che sembra una novità per il modo in cui reagiscono, chi rimane impietrito, chi osserva con orrore e fugge caoticamente, chi riprende la scena con il cellulare molto saggiamente, ma comunque tutti rispondono all'evento come se non se l'aspettassero e non avessero idea di cosa sta succedendo. Ora, quello che vuole essere il setting principale di Kingdom Hearts 4 mi ha lasciato interdetto per un paio di motivi. Il principale è proprio l'ambientazione. Ero molto curioso di vedere una Quadratum si moderna e ricca di indizi e richiami tra quell'insomnia di Final Fantasy Versus XIII e la Shibuya di The Wardens With You, ma comunque nello stile caratteristico di Kingdom Hearts. Mentre ho sentito una grande dissonanza nello slancio verso una versione più realistica e il connubio tra la stessa e i personaggi che abbiamo seguito fino a questo punto. Ci sono però due considerazioni da fare. La prima è che se vuole essere una sorta di al di là per quanto realistico o moderno, il suo distacco e la sua freddezza così lontani dalla magia dei mondi tanto Disney quanto Square potrebbe non essere affatto casuale. In secondo luogo, l'intero gameplay mostrato gira su Unreal Engine 4, ma è stato dichiarato che lo sviluppo è già stato spostato su Unreal Engine 5, quindi la città potrebbe cambiare e migliorare in maniera drastica. Rimane comunque nella profondità della mente un pensiero cinico. Alla fine dei mondi dei sogni si apre la fredda realtà. Facendo meno i seriosi, quanto meno Sora ha delle scarpe normali adesso. Al di là dell'impressione visiva e grafica, che spero mi riconquisti nei lunghi tempi a venire, l'altra preoccupazione è sul war building, o meglio la possibile assenza dello stesso. Mi spiego meglio. Per quanto non sia il nostro mondo, è comunque fatto a modello del nostro mondo, della realtà moderna. Il che non significa solo che non è colorato o particolare come un mondo Disney, anche quelli più attuali come San Fransokio per dire, ma che risponde a regole e fisiche che conosciamo e che magari vengono sconvolte proprio da Sora e l'oscurità che si porta presso. Ma è una sorpresa per loro, non per noi, che assistiamo ad una sorta di Isekai, non a caso un mondo straniero in cui si compare dopo l'ipotetica morte, con la differenza che di solito dobbiamo esplorare e scoprire la nuova realtà. Mentre qui, sempre teoricamente parlando si intende, sembra avvenire il contrario. Lo scontro con l'enorme incubo d'oscurità invece dovremmo direttamente lasciarlo stare. Non solo per quanto detto prima sull'engine e la lavorazione dal lungo sviluppo, ma semplicemente per esperienza. Già prima ci hanno fatto questa sorta di sgambetto da fake gameplay, ma abbiamo già visto che come action JRPG i Kingdom Hearts sanno essere di una qualità eccelsa. Se c'è una cosa che non mi preoccupa è quella scena. So che Kingdom Hearts 4 sarà dannatamente divertente da giocare. Lo è stato il 3, anche se alcuni non concordano con me, ma di sicuro non potete non concordare sul 2. Insomma, possiamo prendere in giro quanto vogliamo la narrativa claudicante, ma il pedigree della giocabilità direi che ha già dimostrato più volte la sua qualità. Quindi su questo non ho paure. In chiusura, come citavo ad inizio video, il mio personale sospiro di sollievo, la comparsa di Pippo e Paperino, che testimonia la loro presenza anche in un capitolo che pare volersi rivolgere ad un maggiore realismo. Sapete benissimo cosa penso della serietà forzata e dell'evoluzione della serie. Se siamo affezionati e appassionati a Kingdom Hearts, è per un fattore nostalgico da cui non abbiamo voluto separarci in questo singolo contesto videoludico. Strappare via gli elementi più significativi e magici della saga in nome di una serietà forzata che non ha niente a spartire con l'emotività che suscita significa tradire l'anima, anzi, il cuore dell'opera. Spero davvero faranno parte di un trio giocabile, che sia con Sora e Strelizia o con Riku e Kairi o con chiunque altro, e che non verranno chiamati in causa solo in scene di intermezzo. Nel finale vediamo i due eroi fare visita ad Ade, presumibilmente per indagare sui viaggi nell'aldilà che sia possibile fare, ancora alla disperata ricerca di Sora, anche a costo di finire immensamente lontani da casa. Come and save me Come and save me Come and save me Come and save me Grazie.